Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, nuovo modello del microinverter da balcone della Wevor ragazzi questo è un prodotto che praticamente risolve tante problematiche ma soprattutto problematiche che mi avete chiesto voi sui microinverter esempio riscalda troppo, il riscaldamento è sempre stato un problema perché il riscaldamento ovviamente provoca un calo di prestazioni mi avete detto che il modello da 600 lo volevate wifi per monitorare i consumi da remoto, la produzione da remoto mi avete detto che quello da 800 era bellissimo perché aveva wifi però ovviamente quello da 800 watt c'è da compilare qualche scartoffia quindi in tanti mi avete detto ma Lorenzo ma non esiste un modello da 600 con wifi così prendo me lo monto, non devo compilare niente, devo fare niente e siamo tutti contenti ragazzi eccolo qua, ah finalmente la Wevor ci ha portato il microinverter nuovo modello, tutto ricostruito, cioè tutto riprogettato da 600 watt con wifi ragazzi eccolo qua, me lo sono fatto mandare, finalmente ce l'abbiamo qua poi faremo tutti i test con il montaggio, la produzione eccetera eccetera tanto ovviamente la produzione sarà da remoto ma ragazzi questo verrà abbinato al vecchio modello da 600 ok così vediamo anche la compatibilità, come comunicano se c'è qualche problema, ragazzi vediamo tutto, va bene? che dite lo apriamo? ragazzi io sono ovviamente sempre più curioso di voi quando mi arrivano questi prodotti sono sempre super curioso nell'aprile il pacco ragazzi come al solito vi ricordo l'iscrizione al canale cortesemente aiutatemi a crescere perché come vi ho detto io faccio video che interessano a tutti il 70% di voi guarda costantemente i miei video ma in me ancora non è iscritto al canale ragazzi io non chiedo soldi, non chiedo donazioni non chiedo nulla di tutto questo l'unica cosa che chiedo è l'iscrizione al canale quindi cortesemente aiutatemi a crescere in modo che io possa fare di questi e altri video che interessano a tutti grazie per chi si è iscritto e grazie per chi si iscriverà dunque apriamo il pacco voilà ragazzi eccolo qua dunque, 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 dunque come prima cosa voglio far notare come è stato cambiato il cavo cioè come è stato rivoluzionato il cavo allora ragazzi questo è il cavo ovviamente alta tensione quindi attacco baionetta uscita spina asciucco va bene? però guardate quanto è grosso quanto è rigido quanto è fatto bene molto, molto più diverso dal vecchio modello da 600 watt ok ragazzi finalmente un cavo ben costruito questo sicuramente è il cavo che danno in dotazione nel modello da 800 quello col wifi perché anche nei primi video che ho fatto di quell'invertero ho visto che è il cavo del modello da 800 era molto più robusto in confronto a quello da 600 ragazzi finalmente hanno portato il cavo migliore nel prodotto ovviamente più piccolo bravo a Vavor ottimo pollice in su ovviamente abbiamo sempre il cavo ragazzi ripeto ingresso baionetta uscita uscita asciucco ovviamente classica bustina con tutti i bulloni dadi contro dadi rondelle contro rondelle con l'antennina wifi che in tanti sono lamentati che è piccola ragazzi questa purtroppo è rimasta piccola avete ragione magari se potevano mettere un'antenna con un cavo diciamo un po' più lungo si poteva portare il raggio d'azione del wifi un po' più distante avete ragione qua in questa cosa purtroppo la Vavor non ci ha contentato quindi antennina perché abbiamo tutte diciamo tutti i bulloni in acciaio inox beh perché è un IP68 quindi può lavorare benissimo all'esterno istruzioni ragazzi sono le stesse GT600 800 1200 sono uguali identiche quindi istruzioni di montaggio app modalità configurazione in serie ragazzi insomma tutte le istruzioni per montare la nostra macchina e voilà ragazzi eccola qua eccola qua questo è il nuovo micro inverter da 600 watt della Vavor wifi ragazzi allora come prima cosa ovviamente io non riesco a trasmettervi quanto è robusto ma soprattutto quanto è pesante cioè questa cosa pesa un quintale davvero pesantissimo in confronto a quello da 600 peserà almeno 3 o 4 volte tanto cioè ragazzi davvero è pesante incredibile quanto è pesante questa cosa peserà almeno almeno 3 o 4 volte tanto il vecchio modello da 600 cioè la robustezza ragazzi è la base di casa qua cioè davvero incredibile quanto è robusto e quanto è fatto bene ma guardate il nuovo sistema di dissipazione finalmente finalmente il nuovo sistema di dissipazione non dovremmo più mettere queste ventole per raffreddare il nostro micro inverter quindi sistema di dissipazione superiore inferiore e frontale doppio frontale doppio ragazzi non credo che questo micro inverter scalderà più come il vecchio modello finalmente finalmente si vede che c'è stato tanto lavoro dietro ragazzi una nuova riprogettazione della macchina nella parte sinistra abbiamo il primo ingresso fotovoltaico sempre con un range fino a 55 volt uguale ragazzi nella parte di destra quindi nella parte opposta abbiamo ingresso fotovoltaico reset wifi e inverter attacco diciamo dell'antenna del wifi led del wifi e ragazzi l'uscita alta tensione qua abbiamo l'ingresso alta tensione per collegamento diciamo in serie tutta baionetta vediamo un po' di caratteristiche micro inverter gt600 ip67 gt600 ragazzi perché anche il vecchio si chiamava gt600 qua avrebbero dovuto scrivere nuovo gt600 perché se uno legge gt600 può pensare anche al modello vecchio quando invece questo modello di vecchio non ha niente è proprio completamente diverso dall'altro dal vecchio modello ingresso ingresso fotovoltaico 18 18 50 volt uguale agli altri quindi ragazzi sempre se volete mettere sempre le batterie tampone dovete fare una serie per arrivare a 24 volt uscita 230 potenza 600 watt ok ragazzi quindi 600 watt quindi 0 burocrazia 0 sbattimenti montate e avete finito e QR per scaricare l'app ragazzi abbiamo già visto nel modello da 800 come scaricare l'app quale usare di app eccetera eccetera ragazzi praticamente il modello è diciamo il montaggio è lo stesso nella parte opposta abbiamo il led di segnalazione per per vedere così dal vivo se diciamo il prodotto sta producendo o no quindi quando è rosso ovviamente non sta producendo quando è verde è in produzione marca vevor gli attacchi ovviamente per per il montaggio in verticale ragazzi guardate questo modello è completamente diverso da quello vecchio vedere anche qua qual era quello vecchio ragazzi si ha sempre funzionato niente da dire però in confronto a questo sembra un giocattolino davvero l'hanno riprogettato completamente davvero completamente ma ovviamente ragazzi questo perché l'ho preso perché adesso in questi giorni uscirà il video del montaggio in serie quindi monteremo il vecchio modello da 600 con questo modello da 600 quindi useremo la vecchia tecnologia la nuova tecnologia per avere un inverter da 1kW 600 600 più 600 1kW funzionerà saranno compatibili ci sarà qualche problema ragazzi lo faremo insieme quindi vi dirò tutto se va bene va bene se va male ormai con sui tutti di questo canale dirò che va male va bene con questo prodotto si dovrebbero risolvere tutti i problemi di burocrazia connessione ma soprattutto quello che ci interessa di più ragazzi di dissipazione del calore ragazzi con tutti questi dissipatori non ci saranno più problemi di temperatura ma anche in questo caso ragazzi faremo tutte le dovute verifiche va bene niente io non voglio prolungarmi tanto ripeto questi microinverte li abbiamo visti a bizzeffe in questo canale soprattutto montaggio e configurazione il prossimo video lo dedicherò solo al montaggio in serie nuovo modello col vecchio modello va bene ragazzi io vi saluto e mi raccomando l'iscrizione al canale cortesemente di tutti i miei crescere perché come vedete faccio un video che interessano a tutti ciao buona giornata